Ciao a tutti, sono Fabio Lamborghini, nipote del fondatore Ferruccio Lamborghini, noto costruttore di trattori, bruciatori, caldaie, condizionatori d'aria e ovviamente delle famosissime supercar. In questo momento mi trovo nella piazza Ferruccio Lamborghini che è a Renazzo, il paese dove lui è nato e dietro di me il monumento a lui è dedicato nel 2007. Quest'anno per la nostra famiglia è un anno particolarmente felice e importante perché ricorre il centesimo anniversario della sua nascita, ma è anche il cinquantesimo anniversario della mitica automobile La Miura presentata nel 1966 e insieme alla Kunta ci hanno portato, reso famoso nel mondo il brand del Toro. Sono orgoglioso di essere stato nominato ambasciatore italiano per la fondazione Caterina's Club e a prova dell'amicizia col noto chef Bruno Serato, sarò con voi il 28 agosto in questa importante cena di gala, sarà una serata magnifica, indimenticabile presso il Museo Marconi. Vi aspetto tutti, ci vediamo, ciao! Grazie a tutti!